Centro Universo da vivere ogni giorno Dal ristorante Sea River da Michele il saluto di Paolo Minucci Ben trovati con il nostro momento a tavola che oggi ospita per la prima volta e lo fa davvero piacevolmente Stefano Mammarella l'estremo difensore dell'acqua e sapone Unigross formazione campione d'Italia di calcio a 5 con cui vorrei subito brindare a questo nostro incontro è un piacere Stefano, d'altra parte un incontro che ci eravamo promessi di fare da tanto tempo puoi assaggiare, il vino è ottimo un locale aperto sia ora di pranzo che ora di cena con il meglio della ristorazione marinara è bello esserci, un locale esclusivo che fa davvero onore alla città di Pescara e all'intera area metropolitana allora Stefano parliamo di questa disciplina è bello rilassarsi, una location che ci viene invidiata da più parti Stefano Mammarella, considerato dalla stampa sportiva specializzata il portiere più forte del mondo una grande responsabilità che da tre anni a questa parte tu hai e conservi con grande professionalità grande impegno io però vorrei andare con oggi perché mi farebbe piacere sapere come è nata la passione in te per il calcio a 5, molti lo conosceranno ancora come calcetto però abbiamo reso l'idea anche perché avremo il supporto delle immagini intanto arrivano i primi elaborati astice, scampi, calamaretti, panocchiette, gamberoni, cinsalatina, novella, gli agrumi mamma mia guardate che roba, una presentazione davvero suggestiva è bello esserci il buon pesce fresco del mare adriatico di scena tutti i giorni al Sea River allora io chiedo scusa, chiedovegna Stefano Mammarella parliamo di questo tuo approccio alla disciplina che ormai è una vera e propria professione sì, è una professione da tanto tempo, oramai ho 34 anni all'età di 14 anni dove nel mio quartiere c'era il primo campo da calcio a 5, calcetto come vogliamo chiamare come si chiamava prima sì, l'hanno costruito in breve tempo e quindi tutti noi ragazzi con la voglia di vedere questo campo ci siamo innamorati di questo sport specialmente io che sono riuscito con gli anni ad andare avanti intanto bisogna dire che tanti campioni del calcio hanno iniziato proprio con il calcio a 5 quindi è una disciplina propedeutica per certi versi al calcio a 11 sì, 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 assolutamente se andiamo a vedere pure Ronaldinho che giocava nel Milan era uno dei giocatori che ha iniziato con il calcio a 5 e poi piano piano, come si suol dire, l'appetito viene parlando, l'appetito viene giocando per meglio dire, Stefano Mammarella si è accorto di poter fare di questa sua passione una vera e propria professione sì, diciamo che ho fatto di questa una professione ma diciamo che alla fine per me è ancora una passione perché ogni volta che scendo in campo durante la settimana mi diverto tantissimo e quindi ho sempre la voglia di fare bene come mai proprio la scelta di restare nel calcio a 5 e non magari quella di optare verso il calcio che è senz'altro la disciplina mediaticamente più attenzionata dagli organi di informazione sì, sì, guarda, sarà banale però dico nella mia struttura fisica ero più propedeutico a fare lo sport del calcio a 5 perché sono basso e un po' robusto anche se ci sono anche nel calcio sì, sì, andiamo a vedere Peruzzi alla Peruzzi ecco andiamo a Bucci del Parma che era Bassino però ho deciso di fare questo sport perché mi sono subito innamorato dall'età di 14 anni come ho detto prima di questo campetto così e cosa ti ha affascinato della disciplina del calcio a 5 nello specifico? riflettendoci su, intanto io vado ad assaggiare questi antipasti ai frutti di mare e spero e credo che lo farai anche tu a breve perché sono davvero qualcosa di molto buono sì, mi ha affascinato il fatto che è uno sport intenso che tengo sempre in ansia gli avversari o gli avversari si tengono in ansia perché nel calcio a 5 il campo è 40 per 20 e quindi i palloni arrivano quasi da tutte le parti come possiamo dire invece nel calcio era un'altra cosa perché potevi stare anche per 40 minuti senza aver toccato un pallone e quindi mi piace... insomma possiamo dire che il portiere nel calcio a 5 più che nel calcio può e deve fare la differenza? sì, certamente alcuni allenatori dicono che il portiere nel calcio a 5 ha una percentuale del 60 del 65% oltre la squadra quali sono le caratteristiche di base che deve avere un buon portiere di calcio a 5? guarda per quanto riguarda per la mia esperienza diciamo che vedendo anche altri portieri la rapidità sicuramente è una dote che non deve mancare e poi la forza e la potenza perché i nostri pali sono 2x3 e quindi deve avere un'esplosività l'esplosività ci vuole in questo sport hai militato nelle formazioni del Chieti, del Montesilvano e quindi con l'acqua e sapone Pescara attualmente ecco, vogliamo raccontare una carriera che ti ha regalato davvero delle grandi soddisfazioni sì, soddisfazioni a non finire perché passando per queste società ho avuto la fortuna anche di essere un giocatore della nazionale e quindi lì mi ha dato maggiore visibilità poi ci arriveremo anche perché nel 2014 tu hai vinto il titolo europeo con la nazionale italiana di calcio a 5 sì, sì, assolutamente quindi da quando giocavo a Chieti sono stato sempre un idolo per i tifosi ecco, noi lo possiamo testimoniare Stefano Mammarella fuori dal rettangolo di gioco è una persona affabile, dolce, disponibile con tutti dentro il rettangolo di gioco e in porta si trasforma anche lo sguardo di Stefano Mammarella acquista tutt'altra dimensione sì, sì ti trasformi è come se fai un trasferimento in un altro pianeta diciamo perché ci vuole una cattiveria superiore a quella che sei nella vita una eccezionale carica adrenalinica sì, sì, sì ce la vuole, ce la vuole perché gli avversari sono molto bravi e quindi tu devi dare il meglio di te stesso ti devi trasformare quando scendi subito sul rettangolo di gioco dai, è finita devi trasformarti e scendere nei panni del portiere di calcio a 5 ti ritieni un estremo difensore autodidatta o hai avuto dei portieri di riferimento su cui hai basato la tua formazione degli idoli per così dire sì, sì, come tutti i giocatori tutti i bambini da piccoli tu vedevi chi era il più forte chi non era io sono partito con l'idolo di Gianluca Pagliuca dell'Inter nel calcio e poi sono cresciuto con Ciccio Angelini che tutti conosciamo uno dei portieri più forti della nazionale di calcio a 5 e poi c'è stato Feller che era un grande campione un portiere italo-brasiliano dove ho trovato parecchi spunti per la mia carriera abbiamo detto prima campione d'Europa con la nazionale italiana nel 2014 ma in questa disciplina hai vinto praticamente tutto vogliamo ricordare tutti gli allori che hai conquistato meritatamente acquisito? sì, guarda, partiamo dalla Coppa Italia ho vinto con l'Acqua e Sapone per la verità ne abbiamo vinte due una in questo anno passato e nel 2014 dove qua a Papa Giovanni Paolo II a Pescara con Mr. Bellarte e poi lo Scudetto nel 2010 con il Monte Silvano e la Champions League nel 2011 sempre con il Monte Silvano in Kazakistan ad Almaty con la gestione Iervolino con la gestione Presidente Iervolino sì, e poi è arrivata anche la Supercoppa e la Coppa Europea con la nazionale diciamo nel 2014 nel 2014 e poi siamo arrivati allo Scudetto all'attuale Scudetto all'attuale Scudetto di tutti questi trofei di tutti questi risultati importanti ce n'è uno che conservi particolarmente nel tuo cuore che quando magari stai a casa, in famiglia rilassandoti magari ci pensi e continui a riflettere su questo risultato sì, guarda no perché sia il trofeo più prestigioso ma credo che la Champions League è una Coppa veramente speciale perché ti dà la possibilità di confrontarti con grandissime squadre a livello europeo e poi è un'organizzazione UEFA praticamente identica al calcio e credo che quella sia stata veramente il mio ricordo più bello Viceversa c'è un ricordo triste nella tua carriera? Certamente, sì c'è stata la finale persa contro la Luparense sempre nel 2014 a Montesivano? al Palaroma al Palaroma perché nella partita decisiva nella partita decisiva la quinta partita la quinta gara ha giocato in casa e lì è cosa è successo? purtroppo a distanza di tempo a distanza di tempo credo che però sei riuscito a spiegare? sì, qualcosina a parte quello che si può dire e quello che non si può dire eh, certamente no credo che la rosa nostra era un po' più corta della formazione della Luparense quindi a lungo andare si è vista la differenza dei giocatori in campo se avevamo la possibilità di avere altri due giocatori nella finale credo che lo scudetto anche quell'anno lo saremmo riusciti a portare a casa quest'anno la panchina è lunga complimenti al sodalizio della famiglia Barbarossa intanto puoi assaggiare perché caro Stefano qui è davvero tutto molto buono un locale il Sea River che è davvero un punto di riferimento per i palati fini della ristorazione è bello esserci da queste parti oggi poi più che mai in una splendida giornata di sole gli addetti ai lavori gli esperti del settore sostengono che questa è una squadra fortissima davvero una squadra all'altezza della situazione però rispetto a quella che conquistò la Champions League con il Montesilvano possiamo fare dei paragoni dei raffronti sì guarda credo che negli anni trascorsi in questi momenti dal 2011 fino adesso sia un po' cambiato il calcio a 5 e credo che con l'arrivo del nostro allenatore Tino Perez che è un grandissimo specialista uno che ha vinto tutto anche lui ci ha dato molto gioco proponibile all'attacco e quindi ha messo su degli schemi e delle delle tattiche che credo ci porteranno bene tu che stai vivendo hai vissuto sia quella realtà la realtà del Montesilvano che vinse praticamente tutto dalla Champions League alla Supercoppa alla Quessapone di oggi alla formazione odierna qual è la squadra più forte secondo te si possono fare dei paragoni io guarda secondo me la metto 50-50% mi ricordo che sicuramente avevamo uno squadrone con il Montesilvano ricordiamo Foglia ricordiamo il grandissimo Foglia smorgato dei miei temi seppioline alla griglia con funghi porcini un'altra delle specialità dello chef che assaggeremo e gusteremo davvero con particolare attenzione ecco Stefano che momento vive oggi come oggi il calcio a 5 nella nostra nazione nella nostra nazione vediamo che sono stati anni un po' pesanti per il calcio a 5 poi con la vittoria dell'europeo della nazionale il movimento è un po' cresciuto anche se come accade nel calcio così nel calcio a 5 ci sono troppi stranieri tanti stranieri che tolgono inevitabilmente lo spazio agli italiani ai talenti italiani sì assolutamente diciamo degli stranieri in Italia è diventato un pum quasi una colonia diciamo e tolgono lo spazio ai giocatori italiani che non riescono a trovare squadre per cui fare affidamento voi italiani siete delle mosche bianche diciamo che siamo delle mosche bianche però ultimamente vi fate rispettare facciamo rispettare ma rispettiamo anche loro perché gli stranieri vengono qui per fare questo lavoro per giocare quindi siamo rispettosi nei loro confronti però diciamo dal cuore italiano puro abbiamo bisogno di crescere e di far valere i nostri valori da italiani d'altra parte la nazionale italiana ha sempre svolto un ruolo di primaria importanza a livello internazionale sì sì assolutamente perché con titoli europei titoli europei medaglie di bronzo medaglie d'argento cosa manca al calcio a 5 italiano rispetto alle formazioni che spesso e volentieri si impongono a livello mondiale tecnica di base fantasia cosa manca la fisicità cosa manca sì manca tutti i valori che hai detto tu è questo che manca mancano i campionati di livello e le rose un po' più lunghe nelle squadre una disciplina molto spettacolare il calcio a 5 palasport pieni nei fine settimana ma non vi fa rabbia sinceramente vedere tanta attenzione solo per il calcio a livello mediatico è molto meno per voi del calcio a 5 sì ci fa rabbia perché ti dico subito se tu vai a prendere una competizione che ci sono delle finali allora si avvicina la vecchia tv Fox Sport di Sky si avvicinava non è come il calcio che arriva a Mediaset e ti propone un pacchetto diciamo che vi facciamo vedere tutte le nostre partite adesso abbiamo una tv che è Sport Italia dove per fortuna almeno abbiamo un po' di visibilità in più che ci fa vedere almeno una partita a settimana vi sentite calciatori di Serie B in un certo senso come vivete per questo motivo sì diciamo perché noi siamo dei professionisti a tutti gli effetti anche perché vi allenate tutti i giorni noi ci alleniamo tutti i giorni sia di mattina che di pomeriggio quindi avremmo bisogno veramente di passare a professionismo puro è difficile restare ancora dilettanti se tu diciamo che sei un lavoratore a tutti gli effetti oggi cosa fa la differenza in una squadra di calcio a 5 la fa una buona tecnica di base la preparazione fisica la tattica come si gioca il calcio a 5 negli ultimi tempi è uno sport che è cambiato come dicevo prima prima era più fisico adesso si è evoluto e ci sono parecchi giocatori con grandissime rapidità si gioca più sui due tocchi gli 1-2 come nel calcio i triangoli si arriva a formare tipo una geometria in questo sport e quindi tu a inizio anno ti prepari parti e prima di partire con il campionato ti alleni per un mese e mezzo tutti quanti insieme per cercare di trovare la forma giusta per poter partire al massimo per Stefano Mammarella è più facile che un portiere o un giocatore di calcio a 5 faccia bene nel calcio a 11 o viceversa? no 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 il portiere di calcio a 5 dovrebbe fare bene anche nel calcio a 11 speriamo però secondo me la tecnica di base del calcio a 5 è poi portarla nel calcio a 11 e nel calcio a 11 è un po' difficile portare il calcio a 11 nel calcio a 5 ad altissimi livelli se andiamo a vedere anche i portieri di livello mondiale tipo Neuer Van der Waart e Hart che stava al Torino hanno degli stili di parata tipo quelli del calcio a 5 e loro hanno fatto degli studi tipo i preparatori atletici preparatori di portieri di questi grandi giganti campioni hanno fatto degli studi proprio sul calcio a 5 per poter ridurre lo spazio nella porta da calcio per avere successo bisogna fare tanti sacrifici allora Stefano Mammarella a cosa ha rinunciato nella vita per raggiungere così grandi traguardi io diciamo che ero molto legato all'amicizia sin da giovane però per raggiungere i traguardi così importanti devi metterti con la testa dritta e riuscire a fare allenamenti su allenamenti ogni giorno e quindi devi accantonare tutti le benevolenze della vita diciamo perché non puoi fare serate non puoi fare feste e non puoi fare niente di niente devi calarti solo nello sport e nel rettangolo di gioco centinaia migliaia di parate eccezionali parate da brividi come si suol dire ce n'è qualcuna che vogliamo ricordare anche in questa circostanza qualche parata dove magari tu rivedendola in televisione hai detto mamma mia come ho fatto a fare tutto ciò sì è stata una partita che andiamo giù negli anni come no con il Monte Silvano dove sono riuscito a parare per tre volte di fila la palla che era con il Caos Bologna ho detto mi sono rialzato alla fine di queste tre parate ho detto come ho fatto era quasi impossibile però alla fine come dicevamo prima quando scendi nel rettangolo di gioco ti cali in una dimensione diversa e quindi hai avuto anche tanti grandi allenatori da Bellarte a Fulvio Colini adesso Tino Perez ecco cosa ti hanno insegnato cosa hanno lasciato questi maestri del calcio 5 in Stefano Mammarelli diciamo per quello che sono diventato devo dire grazie a diversi allenatori ecco chi ti ha dato di più in tutta sincerità perché a tavola si dicono le migliori verità sì infatti Fulvio Colini è uno degli allenatori che forse mi ha dato molto tanto perché nella difesa lui è uno degli allenatori più puntigliosi e quindi mi diceva in ogni istante dove dovevo stare di non abbassare mai la guardia e vedere sempre l'avversario con i piedi dove stava posizionato e tutto e poi diciamo che anche Bellarte mi ha dato la sua pagnotta come per dire perché è stato un allenatore che gli piaceva molto l'attacco ma costruiva tecnicamente anche la difesa con la forza del portiere quindi più impegnato su questa strada e poi con Tino Perez anche con il mister Menichelli della Nazionale dove fanno quasi quasi lo stesso gioco perché quando vai a livello internazionale è molto più difficile sono giocatori molto più esperti è lì che ti dà una forza maggiore e quindi facciamo un riassunto di tutto ma devo dire anche che il preparatore dei portieri mio ecco Francesco Scordella mi ha dato tantissimo a livello di persona a livello di giocatore e il mister attualmente è Luca De Eugenio dove mi segue tutt'oggi che mi dà veramente tanto per questo sport andiamo a rassumere tutto ciò è come se tutto viene defluito in un'ampolla e diventi certo quello che come si diceva Stefano per tre anni di fila sei stato reputato dalla stampa sportiva specializzata il portiere più forte del mondo in quale di questi tre anni ritieni di aver meritato di più questo ambito riconoscimento sì credo nel 2011 2012 quando abbiamo vinto la Champions League e siamo riusciti ad avere con il Monte Silvano una chitarina ai frutti di mare oh chitarina i mocoletti i gamberoni panocchiette tutto sgusciato oggi dovrai fare un'eccezione alla regola lo so che segui una dieta particolare però oggi assolutamente grazie faremo una corsa in più una corsetta in più senti il gol invece che hai ricevuto il gol che ti è rimasto impresso nella tua carriera chi lo ha realizzato? è stato Riccardigno il magico diciamo di questo sport nel mondiale in Thailandia mi è rimasto impresso perché ti dico subito perché nella semifinale di di Coppa del Mondo dei mondiali sì è stato il terzo gol fatto da lui perdiamo 3 a 0 quella partita ha fatto un gol impressionante io feci una parata in angolino nell'angolino in tuffo la palla si alza e lui in rovesciata viene e segna e fa gol però in quella partita riusciamo a trovare il risultato positivo per noi perché siamo riusciti a vincere per 4 a 3 nel tempo supplementare quindi ricordo benissimo quella situazione ecco per allargare gli orizzonti è scomparso purtroppo ahimè il Pescara dalla massima divisione però c'è questa bella lieta realtà della Color Max Civitella con cui avete giocato proprio qualche giorno fa in Serie A sì sì gli amici del Civitella perché diciamo che sono vicini di casa una simpatica realtà pochi chilometri di distanza però ti è dispiaciuto per il Pescara? sì mi è dispiaciuto perché era una società forte con parecchi giocatori dove si vedeva la qualità dei giocatori e poi qui in Abruzzo ci volevano squadre belle impostate come il Pescara e così abbiamo più possibilità di farci vedere sia in Europa ma sia nel campionato italiano per restare alla realtà dei fatti siete impegnati oltre che in campionato anche in Champions League avete superato già la prima fase quali sono le formazioni da battere? adesso abbiamo un girone un po' pericoloso perché c'è una squadra kazaka il Kairat poi ci sono la squadra organizzatrice che è il Krudim è cieca una squadra cieca della Repubblica cieca e un'altra squadra a Bielorussia che si chiama Lida ed una formazione un po' particolare perché giocherà con il portiere in movimento quasi tutto tutti i 40 minuti come è riuscito a passare il suo girone in main round certo è bene mantenere i piedi ben saldi per terra però le tradizioni nel calcio 5 italiane sono senz'altro superiori ai paesi a cui fa riferimento sì sono superiori ma dobbiamo andare sempre con i piedi per terra e il grande rispetto per le altre formazioni perché se andiamo a vedere anche la squadra del Karat è una delle società che arriva fino in fondo quasi tutti gli anni il calcio 5 spagnolo però resta il calcio più più forte almeno sulla carta sulla carta andiamo a vedere c'è il Barcellona e l'Inter Movistar che sono veramente formazioni date come nel calcio Barcellona e Real Madrid e quindi sono loro le formazioni da battere veramente se riesci ad andare in finale e senz'altro un elemento molto in vista Stefano Mammarella a livello internazionale dicono in più che ha ricevuto davvero tante richieste da ogni parte del mondo perché ha deciso di restare in Abruzzo a giocare a calcio 5 sì perché sono un ragazzo genuino che mi piace stare in famiglia e mi piace la propria terra ricordiamo che Stefano Mammarella è nato a Chieti quindi mi piace stare nella mia propria terra e poi ha avuto la fortuna come dicevamo prima di avere squadre eccezionali come il Montesilvano e il Chieti che mi ha cresciuto che mi ha portato fino in Serie A e adesso con la squadra dell'Acqua e Sapone quindi non c'è stato motivo per cambiare casacca non c'è stato motivo sì anche se avrei sono arrivate tante richieste così ci risulta sì 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 tantissime richieste però diciamo io sono abruzzese e voglio vincere con Abruzzo ecco dopo aver vinto tanto c'è qualcosa che manca nel palmaresse di Stefano Mammarella qualcosa a cui ambisce qualcosa che sogna Stefano Mammarella prima di chiudere ovviamente la carriera è una carriera prestigiosa fatta di tanti risultati importanti come si diceva guarda manca una ciliegina sulla torta sarebbe la Coppa del Mondo proprio dove abbiamo sfiorato un anno che siamo arrivati terzi abbiamo vinto la medaglia di bronzo manca solo questa ciliegina però per la fine della carriera voglio arrivare alla fine carriera bene fisicamente per poter dare il massimo ai miei amici ai miei compagni e riuscire con la società dove sono adesso portare qualcosa veramente di buono per il futuro di tutti se un domani il figliuolo deciderà di giocare al calcio a 5 che cosa gli dirà Stefano? non fare il portiere perché? no perché è un ruolo un po' particolare dove forse è un ruolo dove sei tutto te stesso distaccato dagli altri e quindi se sbagli è come il dottore che non può sbagliare in operazione se no diventa difficile e quindi mi paragono a quello lì se sbagli sei fuori dalla strada e quindi devi essere sempre al 100% un leone tra i pali ma ha ricevuto anche qualche piccola punzecchiatura recentemente Stefano Mamare sì sì assolutamente come l'ha accettata? beh mi ha dato la forza per dimostrare quello che ero e quello che sono perché negli anni passati ho dei dolori alle ginocchia e quindi mi sono dovuto fare un intervento ai tendini rotoni e lì non mi riusciva ad allenare e le mie prestazioni calavano ovviamente perché quando un giocatore non ha il suo massimo allenamento non riesce a dare quello che deve dare però da allora mi sono operato e sono riuscito a dimostrare che che sono io che sono Stefano Mammarella è ancora tanto da dire e da fare per il successo dell'Acqua e Sapone Unigros a cui auguriamo davvero le migliori fortune come è cambiata la vita di Stefano Mammarella con il calcio 5 a livello familiare? guarda è stata diciamo tipo un calciatore visibile ma non visibile perché grazie a mia moglie che è una grandissima moglie è una persona umile gli piace stare un po' lontana da tutte le chiacchiere o da tutte le cose da calciatori quindi siamo rimasti persone tranquille noi ti auguriamo le migliori fortune in bocca al lupo a Stefano Mammarella in bocca al lupo per la Champions League per il campionato e per le tante soddisfazioni che meriti di raggiungere con la nazionale italiana grazie grazie per questa partecipazione all'appetito viene parlando qui all'interno del ristorante Sea River da Michele un locale che vi aspetta tutti i giorni con il meglio della ristorazione marinara sia ora di pranzo che ora di cena un personale altamente qualificato è sempre a vostra disposizione per farvi trascorrere delle ore in tutto relax all'insegna degli odori e dei sapori della cucina tipica regionale grazie Stefano Mammarella grazie a tutto lo staff del Sea River di Pescara ma soprattutto grazie a voi per averci ancora una volta scelto da casa l'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni ciao a tutti un'idea originale per la tua festa rendila indimenticabile con il festival della melodia emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale o addirittura con il festival dell'umorismo esilerante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle insomma spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico affidati dunque alla trentennale esperienza dell'agenzia promozione spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11 il divertimento ti aspetta centro Un altro universo da vivere ogni giorno.